salve ragazzi bentornati allora il primo step per la modifica la camperizzazione del van è in fase di sviluppo questa mattina mi sono regato da un mio amico che lui fa delle vetrine allora inizialmente l'idea era quella di oscurare completamente i vetri posteriori laddove poi verrà diciamo la sala da letto non la camera da letto però poi mi sono detto ma se io oscuro tutto quanto da fuori non è omogeneo nel senso che magari poi dietro sono vetri neri magari fatti con pellicola finto carbonio simile e poi invece quelli centrali e quelli anteriori no non mi piaceva molto allora poi ho pensato e invece se faccio con tutti i vetri se faccio con la pellicola nera do un senso di omogeneità si la pellicola nera darebbe un senso di omogeneità però e poi molto laboriosa metti la taglia la fai lo spray con acqua saponata attenta alle bolle quella insomma è molto laboriosa sono stati in uno studio medico e ho visto la vetrina di questo studio medico io da fuori non ho visto assolutamente niente c'è la vetrata era completamente pubblicitaria ovviamente l'analetta farmaceutica questa pubblicità non mi ricordo il medicinale qual era e vedevo come fosse un pannello intero avvicinandomi invece mi sono reso conto che era puntinato dall'interno nello studio si vedeva perfettamente l'esterno cioè da fuori tu non vedi dentro ma da dentro vedi fuori e lì mi si è accesa la lampadina poi direte ma hai scoperto l'acqua calda e che ne so io oggi ho pensato a come oscurare le finestre del pan e del mio nome posti quindi ho visto questa pellicola adesiva tra l'altro essendo boccherellata non fa bolle d'aria quindi è anche più facile la sistemazione per attaccarla sono andato da quest'amico che c'ha la tipografia e gli ho chiesto quanto costasse costa 10 euro al metro quadro quindi un metro per un metro 10 euro attenzione è bianca ma fanno bianca perché poi ovviamente ma stampata quindi tutti i disegni pubblicitari vengono stampati sopra e quindi dovere di base bianca se io la voglio tutta nera diventa 15 euro cioè la stampa costa 5 euro quindi o poi il disegno o poi solamente tutta nera 15 euro io ho pensato di farla di base nera e poi magari mettere una grafica o qualche cosa e il che è una svolta perché specialmente nelle manovre specialmente nelle manovre serali avere la piena visibilità dai vetri è una cosa buona mentre la pellicola nera questa visibilità non te la dà specialmente la notte comincia a non vederci più niente l'autista magari prenderete spunto da questa mia idea non idea perché magari io scoperto l'acqua calda è una cosa che si è stata tanto magari come me e anche voi ci avete ancora pensato magari ora ci starete pensando magari avete già deciso di seguire le mie orme magari farete pure prima di me non lo so non lo scopriremo solo vivendo diceva il grande Lucio Battisti guarda questo gradino che sorpassa ma nel limite a 50 riccava questo è le persone ignoranti bisogna accettarle come direte voi con l'accetta si ragazzi ha proprio deciso di non far seccare niente perché come di certezza detto antico quando piove in secca niente però massa quante cose che si rompono a me per esempio ma si rompono e quindi niente ragazzi piove 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 e il ban quando lo prepariamo tante idee tante idee tante idee pochi soldi però tante idee bisogna aspettare bisogna aspettare ma non è corpa mia qua piove sempre che poi ironia della sorte no regà è vero piove tutto quello che volete voi ma è sceso 16 17 gradi cioè noi siamo arrivati a inizio di metà novembre fino alla maniera quanti cazzo ne abbiamo oggi tra 14 16 metà novembre ancora che stanno 14 15 gradi qua ma pure di notte 13 14 gradi di notte però piove piove in continuazione non so se sto caldo è dovuto proprio alla pioggia però fatto sta che il caldo per lavorare bene all'esterno c'è e però non c'è il che mi fa tra l'altro io ho un'infiammazione dietro alla alla cervicale parlo di lavori che in realtà lavori io non ne devo fare nel senso che le pellicole fuori ai vetri la verniciatura dei cerchi non è che una cosa devo fare io che devo metterci sforzo fisico nel senso che la pellicole ai vetri con la scusa che non la so monta faccio monta a quelli che creano le vetrine dei negozi no c'è sarebbe stata tipografia test amico mio lui è pratico perché il mestiere suola monterà lui e amena monta bene io devo fare niente devo solo pagare e quindi a me mal da schiena non mal da schiena voglio dire non è che devo fare chissà che non devo fare niente devo solamente portargli il furgone là davanti lasciarglielo e me la riprende quando ha finito appena ha finito e il paquaggio però non si può fare palleggiano pure ste gomme rimorte vero finalmente oggi non piove speriamo e siamo noi a prendere le misure ha fatto prendere le misure precise a lui abbiamo scelto la grafica semplicissima la grafica semplicissima ma andava comunque vista insieme alla moglie che la che è la grafica dell'azienda adesso mi preparano l'ambaradan per bandana ragazzi sono le nove e un quarto e io mi sono vestito in maniera molto veloce perché mi ha chiamato l'amico della tipografia e daniele qui sono pronte le pellicole se vieni te le applico ai vetri io mi aspettavo pomeriggio perché la moglie ha detto vediamo non so se riesco prima dell'ora di pranzo perché se non se ne parlava proprio venerdì sabato lunedì no guarda non ne devo partire e quindi ma non devo partire ma comunque gli ho messo un po di fretta sono stato un pochettino cattivello però avevo il frenesia di vedere il l'inizio dei lavori e quindi amos ci siamo ragazzi stanno qui non ve le spoiler andiamo andiamo il buon raff va al montaggio delle pellicole il buon raffaele e maria e la la grafica che ha creato tutto una cosa semplicissima ragazzi perché voluto una cosa molto molto sobria è molto difficoltosa che bisogna il lavoro bisogna vederlo a opera finita eh sì però sa io sto facendo i video per youtube e quindi anche a opera in corso queste sono le uniche due finestre dove non ci sono le grafiche non è che ci siano chissà quali grafiche ho cercato di rendere le cose un pochettino tra virgolette sobria nel senso non fare troppo pacchianate perché vedete quelle delle vetrine alla dotte colorate sono la stessa identica retina solo che è stampata con una stampa a immagine full size no io invece ho voluto fare così il nero nero di base così normale vedete la differenza tra una e l'altra e solo per queste posteriori e per queste laterali posteriori fare una una piccola grafica che ora vedremo una parte la voglia di farvi vedere lo step by step dall'altra però non vi vorrei spoilerare tutto siete curiosi di vedere com'è venuto? andiamo sì lo so non è niente di che ma è un primo step no intanto si inizia da qui poi vediamo i cerchi i fascioni gli interni le tende comunque un primo step andava fatto è il primo step da fare secondo me era quello delle finestre dopodiché una volta sistemato tutto l'esterno passiamo all'interno step by step no come si dice un passo dietro l'altro questo era il primo beh ragazzi il video secondo me è già stato allungato quindi van life il van dan l'ho chiamato van life perché comunque vedete chi mi vede da lontano capisce che comunque il van life è sinonimo di viaggio itinerante con un van camperizzato no quindi la van life è la rossa dei venti perché noi andiamo dove ci porta il vento dice ma se non c'è il vento andò vai che devo dire cercate di indovinarlo però non lo dite andatevena a Grazie a tutti.